Finalmente una giornata di gioia che dimostra lo straordinario lavoro e l'efficienza di questo lavoro dei nostri uffici, in questo caso dell'assessorato al personale, che a conclusione di un concorso che è partito nel 2008 finalmente consente alla Regione Puglia di assumere gli 80 vincitori di quel concorso, non potevamo farlo prima perché eravamo in blocco assunzionale, purtroppo avevamo sforato il patto di stabilità e per un anno intero non abbiamo potuto assumere. Oggi si aprono anche spazi assunzionali e a partire da lunedì possiamo includere nei ruoli dei lavoratori a tempo indeterminato della Regione Puglia questi 80 vincitori. Poi sono particolarmente felice per due ragioni, da un lato perché arriva una ventata di energia, di entusiasmo, una sorta di valore aggiunto che andrà ad integrarsi e a combinarsi con la competenza, l'esperienza del nostro personale storico. Questa giornata la sottoscrizione dei contratti arriva all'indomani di un'altra bellissima notizia, la legge regionale per la stabilizzazione graduale nel tempo e negli anni dei nostri lavoratori precari. E allora c'è gioia dal punto di vista politico. In un momento di crisi noi diamo risposte con il lavoro e contrastiamo la crisi. Ma per fare tutto questo c'è bisogno di politiche per il lavoro e per il personale capaci di tenersi, di realizzare, di rendere possibili queste operazioni che altrimenti rimarrebbero velleitarie e quindi sogni. E qui c'è la dimostrazione che quando c'è la competenza a sorreggere la buona politica, il buon governo, in questo caso della Puglia, dà risultati straordinari.